Prendrà oggi al traffico la strada provinciale 1 Locri-Gerace con l'inaugurazione alla presenza del sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace, del consigliere metropolitano delegato e vice sindaco della città di Gerace Rudy Lizzi. Giornata importante, giornata importante non soltanto per Gerace però penso che sia un momento di gioia per tutto il nostro territorio metropolitano perché l'SPU non ricordo a me stesso ma lo ricordo a tutti che è una strada strategica del nostro territorio metropolitano e finalmente siamo qui oggi. In questo momento è giusto anche ricordare e fare un piccolo escursus anche per chi ha seguito tutti i lavori di questa importante riapertura e quindi un ringraziamento va all'amministrazione qui di Gerace con il sindaco e la sua amministrazione il dottore Pezzimenti, ovviamente il vice sindaco Rudy Lizzi ma tutta l'amministrazione, tutta la giunta, tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita e per aver seguito in maniera brillante i lavori. Un ringraziamento va fatto alla ditta che fino a qualche ora fa ci ha messo nelle condizioni di poterla riaprire e se mi permettete ringrazio anche quelli che probabilmente dovrebbero provare per una volta essere contenti per aver fatto qualcosa di altamente positivo e che invece puntano sempre il dito contro quegli amministratori che quotidianamente cercano di rimettere le cose nella direzione giusta. Un pensiero lo devo fare all'avvocato Falcomatà che devo dire che quando ha voluto conferirmi le deleghe quasi un anno fa sulla viabilità uno dei punti strategici era quello appunto della riapertura di questo importante tratto di strada. Non ci fermiamo qui perché sappiamo che abbiamo fatto soltanto quello che era giusto fare. C'è da completare ancora un tratto importante che è quello appunto del congiungimento con la parte della Piana di Gioia Tauro e quindi con Città Nova. Non ci fermiamo, questa è un'altra delle tante opere che riapriamo, riconsegniamo alla nostra cittadinanza tutta. Che vi devo dire? Sono contento, sono contento per Gerage, sono contento per la città metropolitana e sono contento soprattutto per chi ha avuto la testardaggine di investire in questo territorio. E ovviamente un particolare ringraziamento va al consigliere delegato Rudi Lizzi che ha seguito in maniera importante ovviamente tutte le attività di questi ultimi 7-8 mesi. Per noi sia a livello comunale sia a livello metropolitano oggi viviamo una giornata storica molto importante perché si apre un tratto di strada che era da molto tempo chiuso al traffico e da 6 mesi che era chiuso completamente senza nemmeno una corsia. Abbiamo avuto qualche ritardo nell'ultimo tratto diciamo così per la mancanza di materia prima quindi della barriera a bordo ponte che potete vedere benissimo qua di fianco a me. È arrivata nei giorni scorsi e proprio fino a ieri sera è stata terminata, è stata montata. Naturalmente la città metropolitana ha capito molto sensibile a questo tipo di problematica quindi già subito stamattina alle 11 facciamo la riapertura della strada quindi questa strada potrà tornare nella disponibilità dei cittadini, dei commercianti e dei fruitori della nostra città e quindi potrà essere raggiunta più velocemente. Quindi grazie ancora al sindaco Falcomatà, al sindaco facente funzioni Carmelo Versace, a tutti gli uffici della città metropolitana dal primo all'ultimo, alla ditta, ai tecnici del comune di Gerace diciamo ringrazio tutti e l'unica cosa che ci terrei però a dire, ci tengo veramente tanto, è che chiedo scusa per il ritardo anche se dobbiamo dire le cose come stanno, il ritardo non è colpa di nessuno, era colpa della mancanza di materia prima però io prima di essere un amministratore sono un cittadino e capisco perfettamente le difficoltà che le attività commerciali, i cittadini per andare a lavorare quindi facevano chilometri in più, hanno. L'opera riapre così al traffico dopo gli ingenti interventi di messa in sicurezza e ricostruzione dei costoni franati causa maltempo che l'ente Palazzo Alvaro ha interamente ricostruito. Dopo l'arrivo dei materiali mancanti nelle ultime ore l'impresa in questi mesi ha lavorato in stretta sinergia con il settore viabilità e col dirigente Lorenzo Benestare ed è riuscita così ad ultimare il cantiere della strada che sarà finalmente riaperta al traffico.